Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale, il dissalatore di Gela è uno degli impianti che la regione vorrebbe riattivare per far fronte alla crisi idrica in Sicilia, ma l'ultimo modulo di un maxi impianto di installazione all'interno del sito industriale di Eni è fermo da 14 anni, oggi è solo un ammasso di lamiere ruggine, noi siamo andati a visitarlo e vi mostriamo con immagini inedite in che condizioni di degrado si trova, sentiamo. I stand by dal 2010, chiuso definitivamente poi nel 2012, questo è l'impianto di installazione di Gela, il quinto modulo bis, quello che rimane dell'impianto dei installatori di Gela all'interno della raffineria Eni, di proprietà della regione, andiamo a vedere quello che sarà l'impianto che la regione vuole riavviare per risolvere la crisi idrica. All'ingresso del vecchio impianto di installazione di Gela, lo scenario è desolante, erbacce e ruggine hanno preso il sopravvento sul sesto modulo di quello che un tempo era un impianto all'avanguardia. Costruito negli anni 70 per servire la raffineria e la città, oggi è uno dei tre impianti che la regione vorrebbe riattivare per fronteggiare la crisi idrica, ma il progetto di rimetterlo in funzione solleva molti dubbi. Quando fu inaugurato nel 2006 era considerato un gioiello tecnologico, ma la sua attività si interruppe dopo solo i sei anni, anche a causa dei problemi giudiziari di Pietro Di Vincenzo, allora capo di Confindustria, la cui azienda gestiva il funzionamento e l'impianto. La crisi venne amplificata anche dai debiti che la stessa regione aveva accumulato con Eni per la gestione degli impianti e per la fornitura dell'acqua dissalata. Su questo impianto, fermo ormai dal 2012, la regione paga annualmente a Eni una rata di 10 milioni e mezzo di euro per ripienare un debito di circa 100 milioni di euro, pari ai debiti pregressi per la gestione delle acque depurate dall'impianto. La regione finirà di pagare questo debito fra due anni, nel 2026. Oggi, a 14 anni dalla sua dismissione, l'impianto è poco più di un ammasso di lamiere arrugginite. Eppure, la regione sembra determinata a riportarlo in vita. Un'operazione complessa, come confermano alcune fonti interneeni, che da mesi dialoga con i tecnici regionali. Nel frattempo, il colosso industriale ha dismesso tutti gli impianti e accessori necessari al funzionamento del dissalatore, dalla fornitura elettrica alle condutture. Nonostante la disponibilità al confronto, tempi e costi per un'eventuale riattivazione continuano a lievitare, tanto che la regione starebbe valutando l'idea di costruire un nuovo impianto. Intanto, la piana di Gela resta colpita dalla crisi idrica. Le dighe sono vuote e le condutture in pessime condizioni. Il ritorno dell'impianto fantasma a pieno regime sembra sempre più un miraggio. La cronaca giudiziaria sono in totale tre le condanne per i coinvolti nell'inchiesta scattata dopo il tentato omicidio di Carmelo Palmieri, ferito in contrada a Borgo Manfria. 11 anni ciascuna ad Orazio Pisano, Giuseppe Pisano, padre e figlio. Padre e figlio pianificarono l'azione per colpire Carmelo Palmieri, ferito a colpi di armada a fuoco nella zona rurale di Borgo Manfria e la Gup Miriam Damora condannato ad 11 anni e 8 mesi di reclusione Orazio Pisano e ad 11 anni il figlio Giuseppe Pisano. Sono state riconosciute le aggravanti e la continuazione tra più capi di accusa, compresi quelli per le estorsioni a sparare. In base a quanto ribadito al PM Fabrizio Furneri fu Giuseppe Pisano, seppur con il volto coperto da un passamontagna, venne riconosciuto da Palmieri per via della sua imponente stazza fisica. Stando agli inquirenti, Pisano avevano imposto un regime di controllo capillare della zona tra Borgo Manfria e Contrada Mangiova. Bisognava passare da loro e pagare anche per la raccolta della paglia. Gli venivano addebitate diverse contestazioni per estorsione. Palmieri pare non volesse osservare i diktat dei Pisano e così scattò la ritorsione. Il pubblico ministero nel corso egizio abbreviato ha indicato che gli spari erano per uccidere. Palmieri, parte civile nel procedimento, assistito a legale Vittorio Giardino, riuscì a fuggire riportando ferite. Giuseppe Pisano agì secondo la procura con il pieno assenso del padre Orazio Pisano. A quest'ultimo veniva addebitato pure l'incendio dell'attività commerciale del fratello Emanuele Pisano. Le fiamme vennero appiccate ad un caseificio per il tramite di un minore. Tra i due pare ci fossero forti tensioni. Lo stesso Emanuele Pisano, per i PM pienamente a conoscenza di ciò che accadeva nelle zone rurali, è stato condannato a quattro anni e due mesi di detenzione. Il legale, l'avvocato Giovanni Lomonaco, invece, sostenuto che l'imputato fu esclusivamente vittima, subendo danni all'attività. È stato contemporaneamente partecivile nel procedimento e gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, così come per Palmieri. Sono stati assolti altri due imputati. Le richieste della procura erano pesanti per la posizione di Giuseppe Vaccaro, assistito dal legale Carmelo Tuccio. Secondo gli investigatori, il proprio Vaccaro avrebbe spalleggiato Giuseppe Pisano nel raid a Borgomanfria. La difesa ha escluso l'esistenza di elementi concreti per collegarlo a quanto ricostruito alla procura. Il Gup ha pronunciato l'assoluzione. Una decisione favorevole è stata emessa per Pericle e Ignazio Pisano. Orazio Pisano e il figlio Giuseppe sono assistiti dai legali Giacomo Ventura e Cristina Alfieri, che nelle conclusioni hanno fornito una ricostruzione del tutto differente da quella dell'accusa. Il Gup ha infine disposto il rinvio a giudizio per Fabio Russello e Vincenzo Alberto Alabiso, davanti al giudice solo per l'ipotesi di furti. Assistiti dall'avvocato Nicoletta Cauti non hanno optato per richi alternativi. Il Gup intende ulteriormente approfondire dati e numeri che riguardano la vicenda dell'ex presidente dell'antiracket locale Renzo Caponetti. Nel giudizio abbreviato la decisione arriverà solo successivamente. Il giudice Roberto Riggio ha disposto una consulenza contabile. Ad ottobre verrà formalizzato l'incarico da un professionista che dovrà occuparsene. Per gli investigatori Caponetti avrebbe fornito esiti contabili della sua attività da esercente allo scopo di trarre in errore il commissario per il coordinamento dell'iniziativa antiracket e antiusura a parte civile nel giudizio. In questo modo, secondo la procura, riuscì ad ottenere il contributo destinato alle vittime di racket e di usura, ma sulla base di dati ritenuti, non in linea. La ricostruzione degli inquirenti è invece respinta dalla difesa dell'ex presidente antiracket e della consorte a sua volta nel giudizio. La procura, messi addietro, chiese la condanna di entrambi a due anni ciascuno. Secondo EPM ci sarebbero state anomalie mirate per ottenere le somme. L'accusa ha già prodotto, tra gli altri, un atto di revoca con dello stanziamento. Caponetti e i suoi legali in fase di indagini ottennero decisioni favorevoli anche in Cassazione col dissequestro delle somme. Hanno sempre sostenuto che l'intera procedura per il contributo venne vagliata dalle autorità competenti in tutte le fasi. Probabilmente ci vorranno tempi maggiori per arrivare alla bozza di bilancio stabilmente riequilibrato, essenziale nel percorso di uscita dello stato di dissesto del municipio. Una conferma in tal senso è arrivata dai revisori dei conti. La commissione bilancio in una fase di pieno dissesto del municipio ha un ruolo istituzionale e politico sicuramente non secondario dal momento dell'insediamento. I consiglieri hanno iniziato una fitta attività di verifica e approfondimento proprio intorno al tema finanziario. È stata la volta ieri del collegio dei revisori dei conti. Tre professionisti già durante l'amministrazione greco si sono posti come punto di volta del processo di controllo, aprendo di fatto il lungo periodo culminato con la dichiarazione di dissesto. In municipio i revisori sono stati sentiti in audizione su convocazione. Il presidente della commissione, Vincenzo Tomasi, hanno sottolineato come si è in corso il lavoro di analisi sull'annualità 2021, poi destinato ad essere trasmesso alla commissione straordinaria di liquidazione insediata negli scorsi mesi. Sono tutti passaggi propedeutici, così hanno riferito i professionisti. Arrivare al traguardo e il bilancio stabilmente riequilibrato in questa prospettiva non sarà una volata netta. Potrebbero volerci tempi più lunghi rispetto a quelli più volte indicati al sindaco di Stefano. Il capo dell'amministrazione vorrebbe chiudere il cerchio entro ottobre, ha incontrato parecchie volte la burocrazia in riferimenti al settore finanziario, spinge per una maggiore celerità richiamando le indicazioni fornite nel corso di recenti incontri ministeriali. Sulla tempistica per il bilancio stabilmente riequilibrato, come spiega il presidente della commissione Tomasi, è emerso comunque uno scenario diverso da quello che i consiglieri speravano. Potrebbe quindi volerci più tempo rispetto a fine ottobre. Gli accertamenti che stanno conducendo i revisori, così spiega Tomasi, sono considerati imprescindibili anche nel rapporto con la commissione straordinaria di liquidazione. Come commissione comunque ci sarà un monitoraggio complessivo su ogni dettaglio che riguarda il percorso verso il bilancio stabilmente riequilibrato. La linea dei consiglieri è un'Italia, senza differenze di schieramento. Tomasi, la vicepresidente di Benedetto, i componenti sincero, biundo e al abiso, stanno dando priorità al capitolo bilancio a quello degli strumenti propedeutici in un contesto comunque molto complesso. A causa di un tombino ormai da tempo in condizioni precarie e sempre più pericoloso, un'insegnante è finita all'interno rimanendo contusa. Il tratto è quello della scuola per l'infanzia Antonetta Aldisio. Già lo scorso anno un altro insegnante aveva subito la stessa sorte. Il tombino non è delimitato e a finirci dentro è rischioso anche per tanti bambini che frequentano quell'istituto. Ci sono state segnalazioni per cercare di ripararlo, ma ad oggi niente di fatto. L'insegnante si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti. L'area di crisi che ad oggi non ha generato riscontri sul tessuto economico locale è stata al centro della disamina del gruppo di coordinamento e controllo a livello ministeriale. L'accordo di programma è scadenza, ad ottobre va verso il rinnovo, come confermato in presenza del sindaco Di Stefano. L'area di crisi e l'accordo di programma ad oggi sono incompiute che si aggiungono ad un elenco fin troppo lungo di strumenti istituzionali che non hanno mai sortito effetti credibili sul tessuto economico e produttivo locale. Il gruppo di coordinamento e controllo si è riunito ieri mattina dopo tante insistenze dell'amministrazione comunale e a livello romano del senatore Pietro Orefice. L'unico dato certo al momento è la scadenza dell'accordo di programma fissata per ottobre. L'intenzione unanime a Roma in primis ma pure negli uffici regionali è di rinnovarlo. Lo hanno confermato sia i funzionari ministeriali sia quelli dell'assessorato, attività produttive della regione, le risorse, circa 21 milioni di euro, vengono mantenute al culmine di due diversi avvisi coordinati da invitati. In un percorso iniziato oltre sei anni fa solo un progetto ha visto la luce al momento per il ciclo del packaging. Nel secondo step ancora in essere sono cinque le proposte in istruttoria e una ha ottenuto tutti sì per il finanziamento. I numeri non sono affatto risolutivi. Secondo il sindaco Di Stefano bisogna fare qualcosa di concreto oppure i fondi finiranno altrove. Il primo cittadino è stato piuttosto concreto nella disamina di un quadro generale a tinte fortemente scure. Secondo Di Stefano infatti si parla di sportelli a supporto delle aziende che però non sono mai partiti. Inoltre non risultano programmi di riqualificazione dei lavoratori usciti dal ciclo produttivo. Ha inoltre ribadito che se non fosse stato per l'investimento Argo Cassiopea portato a regime anche grazie alle autorizzazioni da lui stesso rilasciate come assessore ci sarebbe stato un disastro occupazionale. Secondo il sindaco questo territorio troppe volte è stato lasciato al proprio destino. Il primo cittadino in videocollegamento ha preso parte al confronto insieme all'assessore Franzone le prossime settimane e quindi saranno decisive per il rinnovo dell'accordo di programma e per non perdere gli stanziamenti concessi ad un'area di crisi che annovera oltre 20 comuni ma congela capofila. Di Stefano ha insistito sulla centralità di un percorso di animazione teso a coinvolgere il territorio. Per il sindaco bisogna portare il tavolo a livello locale. Le risorse già stanziate dai ministeri e dalla regione non sono in discussione. Fortemente in dubbio però l'idoneta attuale di una legge come la 181 sulla quale si fondano tutti gli iter. Si potrebbero integrare altri strumenti così è stato osservato dagli uffici ministeriali. Dirigenti e funzionari regionali sono inoltre convinti che molto non abbia funzionato. Ci sono pochi progetti e non si riesce ad impegnare l'intero budget. Il sindaco al pari di quanto fatto in Parlamento del senatore Lorefice non ritiene per nulla efficiente un sistema che costringe le imprese ad attendere tempi lunghi prima di risposte sulle proposte di investimento. Tutte le parti si rivedranno nel corso di un nuovo incontro. Per ora la priorità va al rinnovo dell'accordo di programma. A dieci anni dal protocollo di intesa che sancì la riconversione della raffineria, il capitolo degli investimenti agevolati alternativi a quelli di Eni riporta un segno in profondo rosso. In via Barbabianca la situazione è diventata insostenibile. Da oltre un anno non viene fatta pulizia straordinaria. Il verde è talmente incolto e il manto stradale presenta gravi carenze. I residenti chiedono al primo cittadino un intervento immediato. Via Barbabianca è una delle vie più est della città e nonostante i due grandi supermercati che vi si affacciano non è mai stata riqualificata. Da diverso tempo non viene fatta una pulizia straordinaria con spazzatrici e mezzi adatti. Anche il verde è totalmente incolto. In estate i moscerini animali la fanno da padrone e le chiamate ai vigili del fuoco sono continue a causa degli incendi appiccati alle aree verdi incolte e seccate dal sole. La pulizia è un problema perché mai viene tolta l'erba, mai viene pulito. Quindi questo lo vorremmo mettere in evidenza. Pur essendoci qua due supermercati noi ci sentiamo isolati. Nel senso che poi hanno messo un altro supermercato dall'altra parte e non ci possiamo spostare. Noi siamo qui al centro tra un quartiere residenziale e un altro quartiere. E non sappiamo, non c'è una strada che colleghi questi due quartieri. Quindi non possiamo andare dall'altra parte. Per esempio se vogliamo andare al supermercato non ci possiamo spostare per andare dall'altra parte. Poi oltre a questo ci vorrebbero delle panchine qua per poter rendere il quartiere un po' più decente. E inoltre la cosa più pericolosa sarebbe qua che siamo in un punto dove le macchine sfrecciano ma di una velocità altissima. E noi a volte, specialmente durante l'estate, ci troviamo a essere un pochettino, che ne posso dire, un pericolo. Anche il mando stradale in questa via ha dei gravi problemi. Qui in via Barbabianca la situazione è questa che vedete alle mie spalle. È stato subito recindato il grande fosso che c'è alle mie spalle. Ma da un anno non si è visto nessuno per poterlo riparare. Il mando stradale in tutta la strada è completamente divelto. Per tutta la carreggiata sono presenti fossi e in alcuni punti è del tutto inesistente. Inoltre non esistono marciapiedi in cui pedoni possono transitare in sicurezza. È da un bel pezzo che le macchine non sanno, meno male, che hanno messo una cosa al centro, una recinzione per il pericolo delle macchine. Perché le macchine quando è di giorno se ne accorgevano che c'era un buco, ma quando era di sera era pericolosissimo. Quindi è completamente... Poi dall'altra parte c'è, mi sembra, un buco che con mia cognata ne parlavamo, c'è un buco che è aperto per i bambini qui, per gli animali, per tutto quanto. La via si trova al centro di due quartieri residenziali, senza però essere collegata a nessuno dei due. Per chi non dispone di un mezzo è impossibile raggiungere supermercati. E così i residenti hanno deciso di attrezzarsi, realizzando autonomamente un piccolo percorso che porta al quartiere limitrofo. Speriamo che si ricordi appunto di questo quartiere, che non abbandoni la città. Ci sono quartieri che sono abbandonati, non sono solo quelli di Settefarini, ma anche questi quartieri. Il lungomare Federico II di Svevia torna a colorarsi di pazzo e solidarietà grazie all'impegno di un gruppo di giovani volontari che supportati dalle associazioni locali Casa del Volontariato, Cesvop, completeranno un progetto culturale nato due anni fa per valorizzare il territorio gelese. Dal 9 al 14 settembre i volontari armati di pennelli e colori hanno arricchito l'opera muraria realizzata qualche anno fa per sensibilizzare la popolazione sul tema della fratellanza dal titolo Gela si colora di pace. In presenza delle autorità locali realizzata da giovani artisti del collettivo Compart monitorati dall'artista Roberto Collodoro all'opera è stata associata una frase di una canzone di Bruno Rissas che sottolinea l'importanza di accogliere il punto di vista dell'altro per mettere fine a qualsiasi forma di conflitto. Ore concitate in Casa Gela, Andrea, pensa bene, non sarà più allenatore, al suo posto un tecnico che ha già vinto torrei di serie D di eccellenza, non sono da escludere altri AD eccellenti. Sentiamo. Le strade di Andrea, pensa bene, del Gela sono destinate a separarsi da decidere alla formula se c'è attraverso un accordo consensuale unilaterale oppure un esonero. La sostanza però non cambia. Pensa bene alla necessità di stare accanto alla sua famiglia per motivi personali e probabilmente non ha la serenità per concentrarsi sul calcio. Il Gela ne ha preso atto e dopo aver riflettuto 48 ore ha deciso di sondare altri allenatori. Tra i nomi che sono circolati in queste ore ma la scelta sembra essere ricaduta solo su uno di essi si tratta di un tecnico siciliano conosciuto che ha vinto campionati in D in eccellenza sabato mattina con tutta probabilità sarà presentato nel corso di una conferenza stampa pre-partita. Tra i nomi contattati c'è anche quello di Lele Domenicali amatissimo dai tifosi del Gela per via di quell'annata straordinaria che portò la squadra in C1 dopo una splendida cavalcata. Dopo l'esperienza non proprio esaltante a Mazzara Domenicali vuole rimettersi in gioco in una piazza importante e da Gela tornerebbe molto volentieri e l'ho già fatto sapere al club. Non è però l'unico nome in agenda di Vittorio Escherra. Da escludere a oggi quelli di Campanella è strano. Il mercato di Lettanti intanto è aperto fino al 30 settembre e non sono da escludere altri addi eccellenti. Armando Di Martino lascia i pali dalla porta bianca azzurra chiuso dall'argentino Colace e dall'esperto Valenti. Diverse squadre di eccellenza gli hanno già offerto un contratto si tratta solo di mettere nero su bianco. Via anche Federico Rechichi che non trova spazio mentre attenzione alla posizione di Damiano Lo Giudice. 14 gol e 14 assist non sono bastati a fargli guadagnare una maglia da titolare. Pensa bene gli ha preferito Arcidiacono ed accettare di essere una riserva è complicato. Il Vittoria si è interessato non poco all'esterno catanese. Se lo giudice deciderà di cambiare maglia il DS Bonaffini dovrà dunque cercare un'alternativa. La società infatti intende avere due calciatori per ogni ruolo. La settimana prossima si conoscerà intanto la decisione del giudice sportivo sul ricorso del Gela. Filtra ottimismo perché si è davanti a un caso molto simile a Bellomo. Calciatore con a carico una squalifica la scorsa stagione nel torneo Juniors non scontata del tutto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. E tutto il nostro telegiornale termina qui. Per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it Adesso vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.